La dignità è un demone curioso, sono sicuro che ne converrete anche voi, e vi si può consacrare tutto il proprio essere e ritrovarsi irrecuperabilmente estromessi dalla vita, dal suo flusso scombinato ma reale. È alquanto probabile che sia ciò che è capitato a me. Stevens, maggiordomo sempre all'altezza del suo ruolo, eppure condannato a non appartenere a nessuno, se non a Lord Darlington, e alla sua residenza. Il mio destino è sempre stato nelle mani di quel gentiluomo, e vi posso garantire che, per quello che mi riguarda, un cambio di padrone e una settimana di libertà, alla fine di una irreprensibile carriera, divennero un pericolo non mortale. Il viaggio di un assente, mi rendo conto, inceppato dal pudore e dall'incondizionato o seppio al lavoro. Il racconto di un domestico che ha disertato le principali occasioni della sua esistenza, perduto dall'incapacità di riconoscere i propri sentimenti, e di dare loro voce, impegnato com'ero a misurare la distanza di un bicchiere dal bordo di un tavolo con un metro di legno, a mondare di ogni errore la mia giornata, a preferire le difficoltà prima che insorgessero. Con il risultato, vorrei aggiungere, di riempire di mancanze la vita che non ho vissuto. Ciò che intendo è che non ebbi tempo per niente, né per l'amore, né per la morte di mio padre. Non ebbi tempo neppure di sbagliare e non sfiorai mai il segreto del calore umano, se non marginalmente. E' difficile da spiegare, ma è ora che mi eserciti a pronunciare le battute scherzoni. La dignità, adesso lo so, non potrà mai essere gel e astensione.